Questo è uno strappo del muscolo bicipite brachiale. Il tendine si strappa letteralmente dall'osso e si sposta medialmente. Solitamente si verifica durante una contrazione eccentrica che stressa maggiormente la componente muscolotendinea. Il trattamento chirurgico prevede la suturra del tendine all'overo, poi si immobilizza il braccio per circa 4-6 settimane e per tornare all'attività sportiva occorrono almeno 5-6 mesi. Buon recupero!